Bomba di scena e in arrivo Hans segreti di famiglia. Mercoledì 29 agosto, il pubblico di Canale 5 resterà senza fiato. Il Gas, dopo settimane di tensione e misteri, finalmente scoperchierà il vaso di Pandora, incastrando Cailin in modo inaspettato e devastante. Le sue cattive azioni non resteranno impunite, e la resa dei conti è ormai inevitabile. Prepariamoci a uno scontro epico, dove ogni maschera cadrà e ogni segreto verrà svelato, nessuno sarà al sicuro, e tutto cambierà per sempre. Intanto Cailin e i suoi familiari dovranno fare i conti con l'improvvisa scomparsa nel nulla di Zafer e decideranno di allertare le forze dell'ordine. Il Gas si ritroverà tra le mani un pacchetto contenente all'interno una pendrive che riporta la registrazione di una telefonata venuta tra Cailin ed Enjin, dove lei confessa di aver rubato gli spazzolini da denti di Ozanne e della moglie, finendo per prendere in giro anche Il Gas. Subito dopo questa amara scoperta, Il Gas si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di Cailin, la quale arriverà da lui con un video in cui si vede Meltem firmare i consensi informati. Poco dopo Pars arriverà nella camera di Il Gas perché è convinto che sia stato lui a sporgere denuncia presso il procuratore capo. Le anticipazioni della puntata del 29 agosto rivelano che Il Gas riuscirà a incastrare Cailin e si renderà conto di essere stato raggirato dato che è stata proprio lei a far partire la denuncia contro Pars. La reazione di Il Gas non sarà delle migliori e finirà per scagliarsi duramente contro Cailin, accusandola di essere soltanto una persona opportunista che non fa altro che usare le persone solo per raggiungere i suoi scopi. Intanto Cailin scoprirà da Osman che suo padre Zafer è sparito nel nulla, l'uomo ha fatto perdere le sue tracce e la donna deciderà di parlarne con la mamma e la sorella. Si deciderà così di andare a sporgere denuncia presso la centrale di polizia, nella speranza di avere qualche informazione in più su Zafer e ritrovarlo vivo. A partire dal 29 agosto l'appuntamento con la sopopera turca cambierà giorno di programmazione e lascerà definitivamente la prima serata della domenica. Dal 1 settembre, infatti, la serata festiva di Canale 5 sarà occupata dalle nuove puntate della Rosa della Vendetta, l'altra serie turca che dopo il buon successo di Ascolti registrato questa estate è stata messa in stand-by così da poter tornare in onda in autunno. La sopop con Ilgaz e Cailin, di cui mancano ancora un bel po' di episodi prima di arrivare al gran finale di sempre, proseguirà la sua messa in onda il mercoledì per qualche settimana per poi lasciare spazio alle nuove Fiction Mediaset.